Ora, sto pensando il numero 8. Eh? Gave it to me, madonna! Ad Candy. Ore! Non è? 20 e 17, mercoledì 19 agosto. Ok. Ma è quella una foto? Silenzio, silenzio, non parlare, senza parlare. Ma è quella una foto? Silenzio, non vieni a parlare, ma è solo a ballo, con la televisione. Capito? Perfetto! Un po' bastare. Ok. Come? Quanto? Ecco. Un po' bastare. Ecco. Un po' bastare. Ah, che scherzo! Ma che sei un po' bastare? Un po' bastare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.